Per lo meno si pensava di farlo anche all'interno di uno stadio per la prima volta e poi se si unisce anche lei all'appello, se ha un appello da fare alla tifuseria viola per il buon senso. Io sono cose che non riesco a incontrare parole per descrivere certe determinate cose, principalmente perché non riesco a pensarci come l'uomo riesce a fare quello che ha fatto e che purtroppo hanno già fatto prima e purtroppo faranno anche dopo. Io credo che se da una parte si semina la paura, sull'altra parte dobbiamo seminare la positività, cioè dobbiamo guardarci intorno a noi, sempre che siamo vicini a qualcuno, seminare insieme questa positività, il rispetto, l'amore per il prossimo, che anche noi con tutte le competitività che noi abbiamo sul nostro lavoro, tante volte ci dimentichiamo su questo. Anche sul calcio io cerco dentro del nostro gioco anche di promuovere c'è un gioco allegro, un gioco piacevole anche a quelli che non sono i nostri tifosi e questo c'è seminare questa positività perché quanto più abbiamo, più abbiamo possibilità di distruggere quelle che sembrano la paura.